Sindaco, un assestamento di bilancio che è un fatto tecnico ma anche una scelta politica? È un assestamento che consente di liberare risorse con cui paghiamo i nostri fornitori, trasferiamo ai comuni risorse che i comuni vantavano per investimenti, finanziamo una quantità significativa di investimenti sulla viabilità e sulla scuola e quindi mettiamo in movimento risorse che andranno a beneficio del nostro territorio. Naturalmente fare questa scelta significa anche quest'anno come l'anno scorso non stare dentro il patto di stabilità, peraltro la stragrande maggioranza delle province e delle città metropolitane in conseguenza del taglio che hanno subito non rispetterà il patto di stabilità e abbiamo anzi già avviato con il governo il confronto per applicare anche al 2015 l'abbattimento delle sanzioni per sforamento di patto che è già stato applicato nel 2014. Peraltro il patto di stabilità come sappiamo dal 2016 non ci sarà più quindi non è più così rilevante stare dentro quei vincoli per il 2015, quello che è importante è che noi siamo nelle condizioni di poter mettere in movimento risorse che andranno a beneficio di interventi sul territorio a beneficio dei nostri comuni. Per il 2016 il nuovo sistema di contabilità ci consentirà maggiore elasticità e anche una significativa liquidità che ci deriva dalle alienazioni patrimoniali che abbiamo cominciato a fare.